le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di giovedì 21 aprile ariete non vi fate vincere dalla pigrizia avete tante buone opportunità per incassare per conoscere persone nuove ed influenti basta non farsi condizionare dai pregiudizi toro mercurio nel vostro segno vi rende geniari e con una grande capacità di persuasione sentite l'ottimismo portato da venere e dalla luna siete in ottima forma gemelli sul lavoro siete sempre in difficoltà giove marte in pesci vi mettono addosso molta pressione che vi impedirà di gestire al meglio i problemi quotidiani cancro il lavoro può darvi delle belle soddisfazioni mercurio molto generoso nei vostri confronti sarebbe sciocco non approfittare delle buone occasioni a causa dell'umore nero leone sarà il caso di tenere sotto controllo le spese con questo mercurio negativo rischiate di avere le mani bucate e di sperperare denaro in maniera superficiale vergine una bellissima luna vi aiuta ad affrontare questa giornata con spirito positivo avete voglia di mettervi in evidenza di far notare le vostre capacità bilancia ci sono dei cambiamenti in atto che qualche volta vi preoccupano e questa luna in capricorno contribuisce ad alimentare le vostre insicurezze l'amore è noioso scorpione grazie alla luna favolosa potete vivere una giornata spensierata ricca di incontri e sorprese l'amore vi sta regalando delle emozioni incredibili sagittario sul lavoro manca un po di entusiasmo per questo tutte le cose vi risultano difficili e prive di interesse marte vi costringe a combattere per ottenere piccoli risultati capricorno sarete in splendida forma grazie alla luna nel vostro segno avete spirito di iniziativa ed entusiasmo per affrontare al meglio qualsiasi situazione anche in amore acquario sul lavoro notate un certo rallentamento non succedono cose eclatanti e rischiate di sprofondare nella routine in compenso non avrete grossi problemi da risolvere pesci vivrete un'altra giornata magnifica la luna mica vi permette di esprimere tutto il vostro potenziale sul lavoro potete concludere affari d'oro l'amore travolgente ecco l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus